Non hai ancora capito, Saiyan? È inutile! La festa ormai è finita! Com'è possibile? Il potere del Super Saiyan God dovrebbe essere scaldito nell'Ethere! E invece... Sì! Che sta succedendo? Qualcosa non va! Dovresti aver perso il potere! Sì, hai capito bene! Come fai a non esserti reso conto che l'aura del Super Saiyan God si è dissolta? Era ora che te ne accorgessi! Ehi, ma quando è successo? È strano però, perché non mi sento affatto più debole rispetto a prima! Cosa sta succedendo, la virus? Non è a me che devi chiederlo! Sei tu la divinità! Il potere del Super Saiyan God non è scomparso! Lo hai fatto tuo e parte integrante della tua natura adesso! Presto ti accorgerai che quello sfolgorio radioso di colore rosso arde ancora dentro di te come un fuoco, al punto che anche regredendo al primo livello di Super Saiyan puoi beneficiare del suo potere! O mi sbaglio? Io non sono certo che sia così! Quello che vede sono io! E non ho bisogno di altro, Lord Virus! No! Basta sentimentalismi, ti prego! Come ha detto, che cosa significa quella parola? Lascia perdere! Io rischio di raggiungere il tuo stesso livello di stupidità! Anche se credo che tu mi abbia già contagiato da un pezzo! Vogliamo continuare a combattere o no? Certo! Su, fatti sotto!